E' la gara! Ehi, che vuoi? Volevi davvero buttarmi giù dalla rupe? Supererai il trauma! Non puoi arrabbiarti con la tua famiglia! Non sei la mia famiglia, Lagrange! Non mi sono spiaccicato! Grandioso! Oh, lì c'è il traguardo! Sono a cavallo! Ora devo solo raggiungerlo prima di... Lagrange! Fermo! C'è qualcosa che stai dimenticando! Lo stai facendo per Phil! Phil! No, non dimentichi nulla! Sdoppione, eh? Va bene, vediamo che inventarci! Devo soltanto... Alla grande! L'ultima parte della gara! Hai qualche altra manovra spericolata da mostrarmi prima della mia vittoria? Sei magnifico! Nessuno si metterà tra me e la vittoria! Né tu, né quel fastidioso nanerottolo! Oh, la gara! Posso ancora vincerla! Oh, che gli prende a quest'auto? Perché ascelera lentamente? Qualcosa la sta appesantendo! Ciao, amico! Vin! Aiutami! Queste creature mi stanno... No! 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 E meno male che non doveva distrarsi! Che sarà successo? Dobbiamo andare a cercarlo! Ho tolto la gigio alla grange! Bravo! Ma tu non dovevi vincere la gara per Phil? Ma, ma, la grange aveva questo coso! Bloccava l'orologio! Dovevo prenderlo o... O cosa? Potevi lasciar fare ai poliziotti! Hai violato la libertà condizionale! Avevi fatto una promessa a Phil! Dovresti chiedergli scusa! Visto il finale della corsa? È stato sbalorditivo! Di che cosa stavate parlando? Ti chiedo scusa, Phil! Ho promesso che avrei vinto la corsa per te, ma mi sono fatto distrarre da questo aggeggio anti-omni-tricks di la grange! E ho pensato solo a me! Anti-omni-tricks! Affascinante! Ti dispiace se dopo mi metto un po' a studiarlo? Vuol dire che non sei arrabbiato perché non ho vinto il premio? Oh, no, 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 no! Pare che il premio sia una visita in una fabbrica nel deserto! Data l'allergia, non voglio rimanerci! Vecchia fabbrica! Io! Ah, signore Tanolo! Innanzitutto le faccio le mie congratulazioni! Mi piacerebbe premiarla con un'offerta di lavoro! Grazie tante, Latina, ma sono costretto a rifiutare! Posso battere la grange quando voglio, ma la vittoria non è stata pulita! Non merito il tuo premio! Prima ascolti l'offerta! Forse la parola lavoro non è molto adatta! C'è un posto per lei in questa cosa che sto organizzando! Un'associazione, un raduno di capacità, una famiglia, se le piace di più! Famiglia, hai detto? Famiglia! Un'associazione, 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 un'associazione.